Festa del Cammino Mariano delle Alpi, si terrà domenica, cosa succede e come funziona? La festa del Cammino Mariano delle Alpi è stata ideata per promuovere questo nuovo itinerario di trekking turistico, religioso e spirituale lungo i luoghi di culto mariano della provincia di Sondrio. Questa festa prevede una camminata di 10 km da Sondrio a Tresivio. Sarà una camminata molto suggestiva lungo i terrazzamenti, quindi sulla parte delle Alpi retiche e sarà anche un momento per potersi conoscere, condividere queste bellezze paesaggistiche naturali del nostro territorio. All'arrivo al santuario della Santa Casa di Tresivio ci sarà una breve visita guidata e a seguire un pranzo conviviale con la base di un menù del pellegrino, un menù appositamente creato per questo target. A seguire ci sarà un momento un po' più istituzionale al comune di Tresivio e verranno proiettati dei brevi video su questo borgo bellissimo che è appunto Tresivio e sul nostro territorio valtellinese. Successivamente andremo alla chiesa del Calvario che si trova di fronte. Ci sarà un'ulteriore visita guidata alla chiesa del Calvario. Il programma quindi inizierà alle ore 8 del mattino e terminerà alle 17 circa.